Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Bentrovati al meteo. Sul nostro territorio tenderà ad affermarsi un promontorio anticiclonico di matrice mediterranea che manterrà condizioni di tempo stabile e clima gradevole. Il dettaglio di domenica 12 settembre. Sul Veneto bel tempo, tanto sole, lo vediamo, il cielo si presenterà in prevalenza sereno, ma con possibili foschie fino al primo mattino sulle zone di pianura. In montagna dal pomeriggio maggiori addensamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime oscillanti invece tra i 26 e i 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche qui avremo un ampio soleggiamento un po' su tutti i settori della nostra regione. Il cielo sarà sgombro da nubi o al massimo velato. Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime sui 27 e 30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Bellissima giornata di sole, con qualche addensamento pomeridiano, ma in genere senza piogge. Temperature minime sui 14 e 17 gradi, massime sui 29 e 30 all'incirca. Dal Meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Grazie a tutti.